Celebrati i 90 anni della Chiesa Evangelica, Assemblei di Dio in Italia. Grande partecipazione nella sede della Chiesa Evangelica di Via Fra Gregorio Carafan Napoli per le celebrazioni dei 90 anni della Chiesa Cristiana Evangelica delle Assemblei di Dio in Italia. Alla presenza di autorità civile e religiose è stata ricordata la figura di Salvatore Anastasio, primo pastore e fondatore della comunità evangelica napoletana, tra i leader dell'evangelismo italiano che in epoca fascista insieme ad altri fedeli subì la persecuzione che tuttavia non fermò la crescita della comunità dei pentacostali, sempre più protagoniste con la loro testimonianza della parola del Vangelo, della vita sociale, economica e culturale del paese, come peraltro racconta nel suo libro Salvatore Anastasio, la storia del pioniere del movimento pentacostale napolitano, presentato alla platea dallo scrittore Alessandro Jovino, peraltro referente organizzativo dell'evento. Orgogliosi di questa storia, il popolo pentecostale oggi dopo 90 anni vuole ricordare, ma non siamo prigionieri della memoria, siamo convinti che quel che è stato ieri oggi può essere ancora più vivo, più forte. Questa è la testimonianza evangelica a Napoli, storie di uomini e donne che non solo hanno predicato, ma hanno vissuto il Vangelo di Gesù Cristo.